Numeri importanti per il presepe vivente all'epoca di San Francesco proposto ieri sera nel suggestivo borgo medievale di Sovereto. Migliaia i visitatori provenienti da tutto il circondario, dalla Bat, da Lecce, Gioia del Colle, Napoli, Code al Santuario della Madonna di Sovereto per ammirare la natività vivente e il Gesù Bambino posto nell'antica grotta sotterranea. Il progetto è quello firmato dall'Associazione Torre Normanna. Francesco Rossi. L'idea è quella di ripercorrere i passi proprio di San Francesco che a Greccio nel 1233 ha dato vita al presepe. Sì, l'idea è quella appunto di rievocare la prima ricostruzione storica ad opera di San Francesco. San Francesco vuole questo presepe in un periodo storico in cui la Chiesa risolve i suoi maggiori conflitti con le guerre. Se pensiamo che siamo nel periodo delle crociate, ovviamente abbiamo subito l'idea di un periodo conflittuale. Francesco con la rievocazione storica, con il presepe, vuole appunto dare nuova luce al Vangelo, rievocando appunto la natività, quindi in un momento storico in cui anche la Chiesa stessa chiedeva ai fedeli di racimolare denaro per finanziare le crociate, il santo in vita Francesco vuole dare un segno diverso. Infatti nella regola non bollata Francesco chiede ai fratelli di non combattere i saraceni e di riscoprire i luoghi santi nei luoghi in cui ci si vive. Infatti Francesco dice ai fratelli di non andare in terra santa per combattere e scacciare i saraceni, poiché la nuova Betlemme è possibile ricrearla in ogni luogo e quindi in quel caso in Grecia. Questa idea vi ha portato per la prima volta, nonostante questa sia la terza edizione, per la prima volta a Sovereto, un borgo medievale straordinario che viene animato da quanti volontari? È animato questa sera da oltre 100 personaggi in abiti storici, propri del XIII secolo. La prima volta a Sovereto, poiché Sovereto è un luogo tanto caro alla comunità a Terlizzi, poiché è qui che la storia, la tradizione vuole il rinvenimento di un'icona bizantina che da sempre ha accompagnato la tradizione e la fede dei Terlizzi. Parliamo della Madonna. La Madonna di Sovereto, sì. Ecco, questa è la terza edizione, qual è la novità oltre il luogo? Come l'avete organizzata? Le novità rispetto alle altre edizioni sono proprio dettate dalla scelta del luogo. Ad esempio abbiamo rievocato, ricostruito la chiesa delle monache di San Marco, una chiesa attestata sin dalla fine del XII secolo e poi un ospitale giovannita appunto dedito all'accoglienza e al servizio nei confronti dei pellegrini, poiché siamo appunto vicino alla via Traiana e quindi via dei pellegrinaggi tra il XII e il XIII secolo. Quella di oggi era l'ultima occasione per vedere il presepe vivente qui a Sovereto, ma ci sarà un'edizione straordinaria probabilmente a Mariotto? Sì, il 29 e il 30 dicembre ci sarà un'edizione straordinaria, un'edizione ridotta a Mariotto e probabilmente ci sarà anche qualche altra data, ma è ancora in fase di costruzione e di realizzazione. Grazie a tutti.